Ciao a tutti ragazzi sono Celophysis e oggi siamo qui con Terraria Mods Oggi affronteremo dei Twins Dubito fortemente di essere pronto Ma ci voglio provare Tanto ho scoperto che questa cosa qua si può craftare molto semplicemente E questi oggetti non vanno qui dentro Non so se ce la farò, ne dubito tanto, l'ho già detto Però è questo il concetto, sono preoccupato Vabbè Poi mi sembra che stia anche già diventando giorno È diventato giorno Ma dai è giorno Che facciamo? Ora che ti penso Potremmo andare nel dungeon Le cose intere stanno cominciando a finire Le cose da fare Intendo Perché qua si vede così poco Le cose da fare stanno cominciando a finire Dicevo Vorrei sostituire la serie Non ancora Però ben presto La sostituire con qualcosa di grandioso Andiamo via a questo bioma malefico E andiamo nel dungeon Perché ho visto un obiettivo Che dice che nel dungeon Si possono ottenere delle armi Fortissime e rarissime E cosa è questo? Un distruttore Distrutto Ce n'è un run Un altro Ma aspetta Un vile Ploder Che roba è? Tanto c'è l'armatura fortissima Ma non mi uccidono lo stesso Questi cosi qua forse Potrebbero droppare Rispondi ai boss Perché L'ultima volta Uno di questi cosi qua Me l'ha droppato Suspicious No non è quello Per niente Infatti Questa cosa qua Mi è stato droppato Io quindi continuo a uccidere Magari me li droppano di nuovo Non si sa mai Allora Devemmo essere arrivati Lì c'era un coso Ma non mi interessa Oh ci siamo o no? Questa armatura comunque è velocissima Che effetto dà? Non è più veloce? Basta Semplicemente è veloce Ma dai Pensavo fosse anche un po' più utile Vabbè andiamo nelle profondità del dungeon C'è brutta gente? Non ci sarei dovuto venire Sono un po' fortissimi comunque In teoria Non ci siamo mai venuti nel dungeon Prima dell'hard mod Infatti sti cosi non me le ricordo O forse C'erano già Ma io appunto non me le ricordo Voi Dovete morire Con il laser Eravamo già esplorato questa zona Ma ah Quanta gente c'è Ora quanti ce ne sono Oh Un coso C'è pieno di cose qui Peccatevi questo Anche se non funziona Granché Perché questi qua Sono mostri molto più forti E droppano delle ossa Che servono le ossa Oddio Un coso incredibile Lo slime Che mi acceca E' morto Sì Ma non droppano Granché Gianni ha sconfitto La cinquantesima ossa Arrabbiata Molto bene Mi fa piacere Proseguiamo pure Forse qua Non c'eravamo mai stati Esatto Ma aspetta Ma aspetta Perché non mi sono portato le chiavi Possiamo aprire le ceste È vero C'è tantissime chiavi A caso Vabbè Facciamo senza Qua c'è lì Un golem Beccati questo Ok Questa cosa qui L'ho trovata in una cesta A caso Fa dieci di danno Ma è bellissima la radice Spara una radice Che fa dieci di danno Si guarda Eh Cos'è successo Ah si Banner Un'altra tavola Degli incantesi Poi lo già ce l'ho Una chest A cui serve una chiave Che non ho portato Ma che avevo Tanto Un coso Un core Aspetta Cosa che mi ha dato invece Ah Darksteel Ne ho già tantissime Anche di queste Dai Voglio qualcosa di nuovo Fa procede Verso l'alto Procede Porta Stanzone Ha deforme Chest Che non posso aprire Laser Ho sentito del laser Continuo a sentire del laser Ci sono gli alieni Ah Sono finito sulle punte Ecco Questo non l'ho mai visto Oddio Oddio È morto Cosa che aspeta era Non mi ha dato niente Minotaur school Equipaggiabile Eeeh Guarda Chiun Eeeh Quindi Cosa è questo invece Monst Non lo so Muori Ecco Oricalcumi Mi ha dato delle oricalcumi La cesta nel ghiaccio Però io le chiavi Sono ritornato qua Che bello Ma io le chiavi Quelle lì Non ho capito Dove si trovano Non lo so Si scende Si scende C'è cose E tante cose infernali Mori 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 Questo è fortissimo Cultist Assassin Qui si danno tantissime cose Guarda quante chiavi mi hanno dato Due Oddio Quanta gente si sta rodurando di là Moriremo qui dentro Ah Si di sicuro Aiuto Dov'è il Ecco Ecco Sono morto Ma dai Vabbè qualcosa di utile L'abbiamo preso Da quei cultisti assassini Bene Mi chiedo come faremo Sconfittere dei twins Se facciamo cose Aspetta Io la chiave Allowed Dove Caspita l'ho presa Non lo so E b Qua ne ho altre due Che metto Con la mia collezione Gelatina E' stata inutile No aspetta Un po' è utile Lo stato Ma è fortissima La gelatina Dimmi che ne ho altra Tre ne ho E' fortissima La gelatina Perché ti rigenera la vita In più ti fa anche L'effetto di rigenerazione Proprio E adesso Himp Vai Uccidi qualcosa Ah visto che ci siamo Proviamo ad aumentare La potenza dell'armatura Con due Cubi magici Il più forte è il casco Quindi direi di usarlo su questo Plick Non succede niente Plick Non succede niente E' stato molto utile Possiamo dire Ok ragazzi Voglio andare un attimo Verso il mare In questo episodio Non sconfiggeremo Del pinso Neanche li evocheremo Probabilmente Allagate in una maniera Pazzesca Senza un motivo Vabbè Oh Così Che non li cosi In questo episodio E' Che non do A fare niente Un'arpia Questo invece Mi serve tantissimo Perché la cartilagine Qui Serve a fare Le ali Potente E' E' Quanti cavolo Di effetti Malvali Mi ha dato Quel coso Quello slime Li E' I'm bright Sly Ma muori E' anche Potentissimo Ma quanti cavolo Di cose ci sono Oh io me ne vado Volevo andare nel mare Dicevo Perché lì Sponono gli squali E ci serve La loro pinna Anche perché Voglio vederli Sono squali Dopotutto Fuori dal video Dove fare un muro Che protege Eeeh Questo l'ho già visto Sai In qualche altro gioco Starbound Mi sembra Forse me lo sto inventando Completamente Ma non droppano niente Che tristezza Mmm Non sembra che ci sia qualcosa Sai Lì c'è l'imp Qualche una medusa Che dà Un bastone luminoso E Se a scale No Questi anche gialle So cosa sono Io ma io gli squali Aiuto Affogo Ok mi sa che dobbiamo aspettare Di qui tipo Ho ucciso un po' Po che mi ha dato l'inchiostro Che cosa Perché appare una stela Se facciamo questo tasto Ah Lo faccio diventare magico Oddio Aiuto Ma che cosa Ma mi piovono tartarughe addosso Immortali Ma quant'è potente Ha 600 di vita E' un furetto subacqueo Ma che cosa succede In questo oceano Allora posso far diventare Preferiti gli oggetti Com'è che facevo Che capite Stavo facendo Oh muore Allora Così no Ma Ma che cosa Che tasto facevo No la cosa Si era per buttarli Oh mamma Ah così Con alt Un'altra tartaruga gigante Mi lasci Che cos'è questo Invece Aiuto 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 E che dis Ma vabbè E' stata una puntata Abbastanza inutile Sinceramente Però ho scoperto Che si può fare questo Tan 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 Che cosa serve Non ne ho idea Ma è bellissimo Buttiamo via tutto Questo A questo punto Tutto Tanto non mi serve Niente A un bel niente Vabbè Detto questo E' arrivata la notte Comunque Nel prossimo video Forse sconfiggeremo Ne dubito Di nuovo Ve lo dico di nuovo Però forse Vi sconfiggeremo I The Twins Ecco qui Con l'occhio meccanico Speriamo in bene Ciao E al prossimo video